che cosa ho fatto no no sono anche uscita ci sono eh infatti la vediate voi voi ci sono più di questi ragazzi oh mio dio la vedo la vedo ok ci sono basta ricordatevi perché l'ho fatto ricordatevi perché ho fatto sta roba mi frizza tutto l'asso adesso lo vedo perché direi però a me onestamente a me i finocchi non mi sono mai piaciuti il pomodoro collega per l'euro a sardo per l'abbonamento sta arrivando dice sardo cosa arriva sardo amore mio sono curioso hai visto cosa è successo tra nanni e quei due sul server no ne sono perfettamente all'oscuro che domanda è ovvio che lo so cioè mia in realtà è andata così oggi mi contatta quei due sul server mi contatta nicola di quei due sul server e mi dice dario senti non capisco anzi ve lo faccio sentire tanto non è che ci sia niente di particolare ascolta sotto all'ultimo video di bugs next sto leggendo un botto di riferimenti a qualcosa che hai detto tu nanni tipo che cazzo è io non so niente no in realtà io gli spiego cosa è gli spiego tutto il meme mangaka eccetera porca madonna guagli un attimo ho fatto cadere la birra mannaggia maronna mannaggia mannaggia la madonna mannaggia mannaggia la puttana della madonna mannaggia scusatemi appena chiamato il buon alessio kaneki per chiedermi se mi ero accorto del fatto che nel film motelic riusciano a scinganchelli a fare il batterista si fra me mi è cauta tutta la peroni sul tavolo che importa veramente e tra l'altro devo dire una roba fuori dal meme mi piacerebbe tantissimo andare con edo in giappone io sono convinto che per come è fatto lui si divertirebbe tantissimo potrebbe essere veramente una delle esperienze più belle della sua cazzo di esistenza ma tanto si divertirebbe si fermerebbe mai sono convinto che è proprio una metropoli che lo che lo farebbe uscire di testa per come è fatto si si ho capito che i soldi li ha tigre ma deve anche comunque trovare il tempo e poi deve finire questo periodo vediamo si non credo non torna più non torna più sai la figa però a casa le gannette ci sono fatelo che grammo di coca che mi sono fatto come la viviamo bro tu la cosa non devi più toccarla a casa mia però è vero che se non mi sbaglio una parte del ponte ti possono sparare a te sul 30 si 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 fra l'abbiamo visto ieri l'abbiamo visto ieri ce l'ha fatto vedere no no fermati no non stavano su 30 ma ben 32 ecco la mi basta fai torte le nicola siu che schifo che schifo mi è arrivato sui miei ho pure scorreggiato amore che cazzo che cazzo che dolore pure scorreggiato da quelle scorreggia perché ti fa male lo culo mamma mia che dolore che dolore che dolore che dolore more nusa ma che schifo ma da con amore esci esci dai è schifo vai esci vabbè e o candra grazie mille per la sub benvenuto candra ciao grazie mille per la sub candra benvenuto si più tardi faccio smr grazie manga per l'host ciao te king tutto bene tu e nonno svapo in live no grazie valerio ciao si si a fortuna ma accettato la richiesta un ragazzo muovelo ok ciao ragazzi buonasera in che senso la telecronaca in che senso dare non ho capito la parola no 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 ragazzi mi dovete dire cosa vuol dire telecronaca perché sennò qui va qui succede un casino eh che cazzo vuol dire telecronaca salmi lo devo sapere eh questo deve far parte adesso del mio linguaggio sennò va a finire male eh fatemi sapere cosa vuol direeeeeee rifatto l'ascensore cazzo di io diventare claudio pisio non l'anno prossimo divento ora diventi ora vabbè frate stai male proprio quando vengo sicuramente brosè uno brobbio che cazzo stai facendo ti sta tagliando i capelli fratello tu ci vieni in centro a tagliare gli uccelli che cazzo fai ok fratello non mi batti vedi che mi taglio i capelli con tutti quanti davanti sono il più forte d'italia tua mamma si chiama Natale ecco qua c'è un po' di Dario in questo lag nooo basta mi avete rotto i coglioni di inserire questa roba qua all'interno dei meme mi scipigliate per il culo e poi mi volete convincere tutti i vostri a giocare a persona 4 se vorrò un giorno giocare a persona 4 lo farò lo farò ma non adesso ora non posso c'ho da finire ancora 5 royale e poi c'ho 2000 gioie fermi anche qua ovunque vi mettete questa cosa di persona 4 golden vi vengo a prende per andare poi insieme a Gardaland eh oggi è domenica saluta me la domenica eh che devo fare che oggi è domenica mangia qualcosa io per te dovevo mangiare qualcosa questo e quella no io non sono o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo facciamo o cazzo o cazzo hai capito facendo le cazzo hai capito a volte ti comporti da cretino sai azzze o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo non è opera mia dovete aiutarmi a coline berda dice per favore prima che sia troppo tardi silenzio donna che trovi se trova una gatta buona ho incrociato tutte di questo di è tutte dita incrociate ciò croce incrocia sciarpello eccolo porco dio ok buona 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 cursola de galar non hai trovato niente ma questo è un buon pacchetto non sento quando non ci dobbiamo senti niente ma che dobbiamo dobbiamo stati veramente liberi non è una pori serie per un porto di una storia dove chiediamo scusa allo sviluppatore di dito però se c'è qualcuno che esacera nei commenti dimmelo che prendo provvedimenti no dario è tutto falso è tutto finta nulla è reale tutto è lecito grazie a tutti grazie a tutti